Un piano che per la prima volta riunisce tutti gli attori istituzionali e non nella battaglia per la tutela del Made in Italy. È quello che è stato presentato a Milano in occasione degli Stati Generali per la lotta alla contraffazione. Un documento che rappresenta il punto di arrivo di una intensa attività di analisi condotta tra gli altri da 11 ministeri e 150 associazioni di categoria che ha portato all'individuazione delle priorità e delle aree degli interventi ma anche l'inizio di una grande battaglia di sistema, come spiega la Presidente del Consiglio Nazionale Anticontraffazione, Daniela Mainini. È fondamentale in questa importante lotta fare sistema. Basta iniziative scoordinate e scollegate ma un'unica visione strategica e sistemica del Paese Italia in questa fondamentale battaglia di legalità. Tra i punti in evidenza nel Piano Nazionale Anticontraffazione la tutela della proprietà industriale e dell'italianità. Quello che vogliamo fare è cambiare proprio cultura delle nostre imprese, del nostro sistema imprenditoriale, insegnare loro a utilizzare in maniera strategica gli strumenti di proprietà industriale che noi abbiamo e il Ministero sta facendo molto per far ciò. Infatti sono stati varati degli strumenti incentivanti per tutelare, rafforzare e far diventare ancora più strategica alla tutela della proprietà industriale e tanto nell'ambito brevettuale con la misura brevetti più sono stati stanziati 30,5 milioni di euro per aumentare, incrementare qualitativamente e quantitativamente il numero di brevetti in Italia e all'estero. È la stessa cosa per il disegno, è la stessa cosa per i marchi. Al di là dei dati, ciò che è emerso come esigenza comune è la necessità di una efficace attività di comunicazione in grado di favorire un salto culturale nella percezione da parte dei consumatori del fenomeno della contraffazione. Abbiamo bisogno di far comprendere ai cittadini e ai consumatori che la contraffazione è un fenomeno criminale a pieno titolo che non solo danneggia i diritti di chi se li vede violati dal punto di vista ad esempio della proprietà intellettuale ma danneggia il sistema perché oggi più che mai è frutto delle grandi organizzazioni criminali. Quindi acquistare merce a contrafatte significa di fatto non solo compiere un reato ma agevolare i reati di chi con le grandi organizzazioni criminali sposta i propri interessi dalla droga ad esempio quello che fino a poco tempo fa è il primo mercato a quella della contraffazione che sta a grandi passi diventando il primo mercato.